GEP 2013, siamo ospiti dello stand Rinaldi Superforni in compagnia di Riccardo Rinaldi. Volevo parlare un po' dell'azienda, come è nata e quale è stata l'evoluzione nel tempo. Un saluto a tutti, l'azienda è nata come tante aziende italiane nell'immediato dopoguerra. All'epoca mio nonno, che era un tecnico ex dipendente della Bosch in Germania, rientrando in Italia si era messo ad aggiustare scaldabagni e un giorno un amico gli ha detto guarda avrei bisogno me lo fai un forno da pasticceria. E mio nonno nel 1946 si mise nel giardino di casa e realizzò il primo super forno. Diciamo una situazione molto genuina per quegli anni che erano. Eh sì, estremamente genuina. Da lì poi con mio zio e mio padre, piano piano, hanno messo su un'azienda che dal 1946 costruisce forni per panificazione, pizzeria e pasticceria. E oggi siamo noi, io con i miei fratelli Roberto e Renzo, che stiamo cercando tra le mille difficoltà comunque di continuare a portare avanti. Indubbiamente ti interrompo, la situazione è particolare del nostro paese, però i buoni propositi sono quelli che ripagano nel tempo. La situazione più che particolare è curiosa, perché siamo un paese che funziona all'incontrario. Io mi occupo anche molto dell'estero e alle volte da italiano tornare a casa è veramente una cosa dura, perché vedi proprio un paese che è ancorato, ha uno schema, è un sistema che oggi non ha più motivo di essere, che oggi non può più neanche esistere, perché avendo fatto le adesioni all'Europa, alla moneta unica, abbiamo ceduto la sovranità nazionale. E però ancora noi italiani non siamo pronti a questo cambiamento e questa cosa penalizza, penalizza da morire. Poi fortunatamente siamo bravi, perché la creatività, l'inventiva che hanno gli italiani sono caratteristiche che in giro non è che si trovino da più. Infatti dalla moda alla tecnologia, il fatto di saperci distinguere crea anche una certa difficoltà ai nostri competitor. Assolutamente sì, ma infatti se noi avessimo i sistemi degli altri paesi per come siamo, ovviamente non ce ne sarebbe per nessuno. E che facciamo di tutto per complicarci la vita? Allora, intanto, dopo aver affrontato anche un tema che ci coinvolge un po' tutti, parliamo di produzione. Ecco, parliamo dei pezzi forti che la Rinaldi Superforni mette a disposizione dei propri clienti. Dunque, come dicevo prima, noi operiamo su tre settori, oltre ad avere una divisione engineering che si occupa di progetti speciali, quindi di impianti per la produzione industriale di basi pre-cotte per pizza, piuttosto che di altri tipi, sia di materiali che di prodotti. Per quello che riguarda il mondo della panificazione, abbiamo dopo anni di letargo finalmente integrato l'offerta e abbiamo presentato qua a SIGEM 2013 il forno rotativo. Noi siamo dagli anni 80, ricordo ancora mio padre quando in azienda faceva le prove col forno a carrello fisso per il pane, quindi siamo andati a completare la gamma col forno rotor, oltre ad avere tutta l'offerta del forno a piani elettrico tradizionale, quindi per il mondo del pane. Nel mondo pizza abbiamo dal fornetto domestico, che è un progetto bellissimo che abbiamo fatto in collaborazione con un... Anche per casa praticamente. Esatto, nasce per quello perché... Ricordo ancora, mi ha chiamato Antonino Esposito che è un maestro pizzaiolo che fa piacere pizza su Alice TV e mi ha chiamato da Las Vegas. Sì, perché anch'io sono informato e guardo i canali tematici, ho visto che anche il maestro Esposito ha una certa cerchia, una certa risonanza. È incredibile, ma fondamentalmente io credo che oggi ci sia molto bisogno dei mestieri, cioè la gente per fare qualsiasi cosa deve saperlo fare. L'illusione che ci ha dato, l'esploit della tecnologia, quindi il fatto che ne so, anche a investimento zero, io mi scarico Photoshop e divento un grafico... Sì. È un po'... Oggi, siamo un po' omogenizzato il discorso. E quindi partiamo da questo, da questo forno da monopizza che può essere prodotto domestico e poi verrà sviluppato per quello che è il discorso del senza glutine in pizzeria, a tutta la gamma dei forni per le pizza al pala, per la pizza in teglia, con le camere in acciaio, camere in refrattario, quindi modulari di varie variate misure, tutto il mondo dei forni a tunnel, dal forno a tunnel piccolino da 45 per 90 ai 62 per un metro e mezzo, quindi per soddisfare un po' tutte le esigenze di produzione. 360, la parola esatta è 360, lavorare a 360 gradi. Lavorare con l'attenzione a quello che possono essere i segnali di esigenza dei clienti, cercando però sempre di portare qualcosa in più, perché come diceva, se non ricordo male Ford, dice se avessi chiesto ai miei clienti di che cosa avevano bisogno, mi avrebbero risposto un cavallo più potente. È vero, è vero, è sicuramente molto particolare come frase, però fa capire come un'azienda si deve conformare al gusto e alle esigenze dei clienti. Noi abbiamo sposato proprio come slogan, super forno per amico, quindi è supportato dal forno e soluzioni, quindi cercare di capire soprattutto che siamo tutti sulla stessa barca, per cui noi crediamo e abbiamo rivisto anche il rapporto che abbiamo magari prima tenuto sul mercato con i clienti, cioè non è un rapporto di fornitore-cliente. Il cliente ha delle esigenze, noi magari possiamo avere delle competenze, sposiamo le due cose e il gioco è fatto. E il gioco diventa più facile. Riccardo, intanto io ti ringrazio per l'ospitalità, soprattutto per la spiegazione e soprattutto anche noi ti facciamo un augurio per mille momenti di soddisfazione e pensiamo che sia uno di questi, va bene? Sì, io vi ringrazio, vi ringrazio dell'opportunità, ci rivedremo sicuramente presto, noi carichi di entusiasmo, andiamo avanti. Allora, per Pianeta Pane, per Pianeta Dolci, Sicep 2013, Andrea Guida, un saluto.